Se avessimo più donne leader, avremmo un mondo più pacifico? In realtà penso che in questo momento le donne abbiano una grossa responsabilità nel guidare molte delle trasformazioni che stanno accadendo attorno a come definiamo il successo, come definiamo il lavoro. Perché fondamentalmente il mondo, così com'è ora, è stato progettato dagli uomini e non funziona. Ci sono alcuni bravi uomini che sono molto necessari. Ma se ci pensate, sapete, abbiamo avuto la prima rivoluzione delle donne, quando le donne hanno potuto votare. La seconda rivoluzione delle donne, guidata da Betty Friedan negli Stati Uniti. E Gloria Steinem sull'avere accesso ad ogni lavoro a parità di retribuzione. Ad ogni posizione, al top di ogni campo. E ora io credo che ci sia una terza rivoluzione delle donne, che è ridefinire che cosa sono il successo e il lavoro. Quindi, invece di dire semplicemente, voglio essere con te al vertice, dove sei tu. Dire solo, è davvero questo il modo migliore per gestire un business? È questo il modo migliore per gestire il nostro mondo? E le donne stanno dicendo, no! Molte, molte donne stanno dicendo, dobbiamo veramente cambiare la struttura delle imprese in cui ci troviamo a competere. Cambiare il mondo politico in cui ci troviamo a competere. E non soltanto competere nei termini che gli uomini hanno creato. E sai una cosa? Quando questi cambiamenti avverranno e stanno avvenendo, gli uomini ne saranno incredibilmente grati. Nella costruzione della vita, nella natura stessa in cui noi siamo, c'è un qualcosa chiamato maschile e femminile. Purtroppo abbiamo creato un mondo in cui la nostra idea di successo e di benessere è preponderantemente maschile. Voglio dire, devi capire, non sto parlando di maschio e femmina. Sto parlando di maschile e femminile. Un uomo è capace di essere tanto femminile quanto desideri essere, in termini del suo pensiero, delle sue emozioni, quando desidera esserlo. Allo stesso modo, una donna è capace tanto quanto un uomo di essere tanto maschile quanto lo desideri, quando la situazione lo richiede, o quando queste azioni sono necessarie. Oggi abbiamo creato dei sistemi educativi che sono puramente maschili, che stanno formando anche le donne, che ci piaccia o no. No, purtroppo l'idea di successo è diventata maschile. Coloro che vogliono avere successo, anche se sono donne, stanno diventando così. E questo è un grave danno all'umanità. Se il femminile viene portato via dal mondo, tutto ciò che è dolce e gentile, tutto ciò che è bello, tutto ciò che è estetico, tutto quello che è l'aspetto più sottile della vita, sparirà, ed esisterà soltanto l'aspetto della sopravvivenza della vita. Oggi c'è seria preoccupazione riguardo a questo. Vedi, 25 anni fa, in una normale conversazione, nessuno pensava che valesse la pena discutere di economia. Non è vero. Parlavamo del tempo, parlavamo di fatti piccanti in città. Non parlavamo mai di economia. Oggi, in ogni conversazione, tutti parlano di economia. Economia significa sussistenza. Economia significa provvedere. Questo è puramente maschile in natura. Non sto dicendo che le donne non possono provvedere. Non sto parlando di uomini e donne. Sto parlando di maschile e femminile. Rendendo la società così preponderantemente maschile, si annienterà il femminile. In questo, tutto ciò che è gentile e bello scomparirà, anche nella donna. Perché quando fissi uno standard, che questo è l'unico modo in cui puoi avere successo, anche lei si adatterà alla situazione. Cosa che sento sta succedendo. E molte donne stanno esprimendo la loro mascolinità, in modo molto più forte e crudo di un uomo. Sta accadendo. Questo è doloroso. Perché se mi è consentito condividere qualcosa della mia vita, sai, in quei tempi, quando stavamo crescendo, mio padre era un medico. Lui manteneva la famiglia. Mia madre non ha mai guadagnato una rupia nella sua vita. Ma non è mai esistita la questione che lei fosse considerata inferiore se non guadagnava. No, lei era la persona più apprezzata. Da bambino, quando guardo indietro con tutto il dovuto rispetto, quando guardo indietro e osservo per il modo in cui si è evoluta la mia vita, avrei molto facilmente potuto vivere senza mio padre. Ma non posso immaginare la mia vita senza mia madre. Lei non ha mai guadagnato nulla. Ma non è questo il punto. Da dove venivano i soldi non faceva differenza. Ma come veniva condotta la casa era tutto. Devo raccontartelo. Erano i dettagli. Lei faceva tutto in casa. Dal cucire al ricamare, al cucinare. Tutto. Perché non voleva che nessun altro lo facesse per suo marito e i suoi figli. Voleva farlo lei. Se viaggiavamo, quando dovevamo dormire da qualche parte, se vedeva una federa spoglia, sai, quando viaggi in qualche posto ci sono solo federe bianche, lei diceva, come fanno i bambini a dormire con delle federe non decorate. E tirava fuori ago e filo. Al momento, in cinque minuti, ricamava un piccolo pappagallino o un fiore. Questo piccolo pappagallo verde, io lo fissavo e dormivo. È così radicato nella mia coscienza oggi, quel piccolo pappagallo verde, perché quel senso di, quella attenzione, penso che quel piccolo pappagallo verde sia entrato così profondamente dentro di me e in molti modi. Ciò che io sono oggi è una manifestazione di quel piccolo pappagallo verde che lei ricamava su quelle federe. Quindi, questo è il femminile. Non sto dicendo che tutti devono ricamare. Sto dicendo quel senso, quel senso di amorevole attenzione è femminile. E questo deve accadere. Nel sistema dello yoga, sai, hatha yoga è una parola comune che viene usata ovunque, generalmente senza saperne il significato. Hatha significa ha, significa sole. Ha significa luna. Questo significa bilanciare il maschile e il femminile dentro di te. Solo quando queste due cose sono propriamente bilanciate dentro di te, tu sei un essere umano completo. Altrimenti, sei un essere umano sbilanciato. L'Adi Yogi, che è l'originatore dello yoga, lo so che in California voi pensate che sia stata Madonna a farlo. Adi Yogi è rappresentato come il supremo simbolo dell'uomo e in tutte le immagini in cui viene rappresentato, una metà di lui è uomo, l'altra metà è donna. Lui è l'uomo assoluto, ma una metà è donna, l'altra metà è uomo, perché un vero essere umano è un pari equilibrio tra maschile e femminile. E non capisco perché nei posti di lavoro essere uomo o donna dovrebbe essere un problema, perché dovremmo sempre guardare a qualcuno come a un uomo o come a una donna. Possiamo vederli semplicemente come esseri umani.